bentornati bentornati sul sul canale buona domenica innanzitutto buona domenica a tutti è curioso vero che non c'è nulla di di nuovo non c'è nulla di particolarmente originale mettiamola così non c'è nulla di particolarmente originale ma è curioso il il fatto di continuare a dover leggere anche su quotidiani nazionali un tipo di racconto del calciomercato sempre con con un sottofondo di pericolo di allarme quando si tratta di inter invece di grandi fanfare di grandi squilli e trombe per quanto riguarda la juventus della comunicazione lo sapete ne parlo spesso e volentieri anche perché il mio campo e quindi non solo è il il pezzo del mondo del calcio al quale sono legato per motivi lavorativi ma anche quello che che più mi incuriosisce che più mi interessa oltre al campo chiaramente e questo modus operandi devo essere sincero ormai si ripete da diversi anni quindi nessuna novità nessuna nessuna sorpresa nessun punto esclamativo anzi sono tanti punti punti e virgola al limite che abbondiamo però ad esempio no stamattina prende i giornali di buono di buon'ora si legge da una parte i nodi no lato inter ci sono i nodi all'inter per fare mercato deve ricordo sempre che l'inter ha già preso sia lì schietta remi che la squadra campione italia con un ampio margine e quindi quella che giustamente come per esempio sottolinea la gazzetta lo sport può anche aspettare è lì aspetta gli eventi e al momento giusto va e colpisce però al contempo si dice l'inter deve per arrivare a determinati obiettivi ad esempio si è parlato anche di depai che va via da svincolato all'atletico madrid chiaramente però ha un ingaggio molto molto elevato e non so se lui voglia affrontare a questo in questo momento della carriera un'avventura come quella della serie a nell'inter quindi mettersi in discussione con due attaccanti come lautaro e tiurama che hanno fatto stra bene più da remi magari voglia andare in qualche posto esotico ma questa è una mia idea ho sempre visto uno un po più dalla parte dello spettacolo che non dalla parte del calcio depai devo essere sincero altrimenti avrebbe delle potenzialità enormi e inesplorate ma al di là del nome specifico l'inter deve vendere a nadovich e e carboni poi ascolti ausilio e sono la dichiarazione ufficiale del direttore sportivo dell'inter di carboni potremmo magari anche metterlo dentro in organico per il prossimo anno al limite valutare il nuovo prestito poi è chiaro arrivano 50 milioni da non so chi e vendi carboni però io non darei per scontato la volontà di cedere carboni poi ma poi può succedere la qualunque ma la volontà di mettere carboni sul mercato io non non ce l'ho questa certezza non ho riscontri ma anche senza avere risconti non la darei per scontata invece di dare scontata l'inter deve vendere carboni arnautovic anche se si continua a dire che poi in zaga vuole cinque punti quindi a quel punto se vendi tutti poi ne devi prendere altre due mi sembra normale e il nodo correa e questi grandi nodi bloccano il mercato dell'inter ma bloccano di che? cioè ti danno comunque al di là poi della della sostanza no? la forma che poi uno può sempre dirti a fine mercato e vedi poi carboni però l'hanno venduto e però vedi poi arnautovic ce l'hanno venduto e vedi in effetti correa poi l'hanno dovuto sbarcare al di là della sostanza è la forma conta anche la forma nella comunicazione e questa forma ti restituisce una situazione di precarietà in casa inter come se tutti immaginiamo la sede dell'inter voi entrate e tutti laboriosi come formichini a cercare di piazzare altrimenti siamo bloccati c'è il nodo correa come facciamo dobbiamo prendere dobbiamo condentare in zaghi dobbiamo piazzare svendiamo i salti no no non è così anzi l'intero ha tantissimo vantaggio ma questo non lo dico perché tifo inter lo dico perché è così effettivamente ci sono stati anni in cui l'inter veramente doveva fare le corse doveva bilanciare il centesimo arrivi a fine mercato e ti mancano dei pezzi ti volando con spalletti ti mancava un difensore centrale palesemente poi preso l'isandro lopez a gennaio quindi oltre quarti cioè ci sono stati dei mercati in cui l'inter non non arrivava non chiudeva era in apnea non è questo il caso semplicemente non è questo il caso eppure la percezione che ti viene restituita è questa qui della dell'allarme della precarietà siamo bloccati madonna e mo come facciamo se non piazziamo no dall'altra parte e qui parlo di juventus poi in maniera particolare perché fa il paragone con la juventus perché inter juve è il dualismo poi ci mettiamo dentro il milano ma sappiamo il milano ancora non ufficializza fonseca è una realtà negli ultimi anni un po sui generis fanno tutto un mercato loro giusto o sbagliato e non sto dando un giudizio l'altra parte la juve invece ha dei grossi problemi finanziari chi sa leggere i bilanci seriamente non solo leggerli in italiano ti dice che occhio che fra un paio d'anni la juventus potrebbe potrebbe essere esclusa alle coppie alla uefa per il mancato rispetto degli accordi e quindi deve tagliare veramente la juventus deve tagliare a un bilancio molto molto complicato io non uso le parole che si usano quando si parlava dell'inter di fallimenti il tribunale queste minchiate così ma è una situazione complessa e complicata quella della juventus e voi dite ma come complessa e complicata spende parecchio per di gregorio vuole copmainers vuole ciccio di nonna papera vuole gerry l'astronauta come fa è fa perché evidentemente la strategia anticipare dei colpi e indurre e indurre quelli che oggi pesano tanto a bilancio soprattutto tutto l'aspetto della dell'ingaggio ad andare ad andare è una risposta quasi indiretta dire per voi non c'è posto ad esempio a scesni e da quello che si legge rabbio ha sparato alto chiesto 8 milioni di ingaggio e ci sarebbe la rottura e hanno messo sul mercato chiesa cioè parliamo di pezzi da 90 parliamo di necessità effettivamente però come viene raccontato la grande juve si libera di questi pesi morti di questi che sparano alto e pesano tanto nell'ingaggio sull'ingaggio e grazie a loro primi colpi in entrata stai perdendo c'è uno dei migliori portieri del campionato rabbio che fino a che avrà la madre della juve verrà descritto come effettivamente è un grosso centrocampista campione del mondo eccetera eccetera e chiesa la stella della nazionale chiesa chiesa di qua chiesa di là adesso è diventato un peso perché perché io l'ho messo sul mercato però magari comprano pitipicchio rattazzo e topolino e diventano i nuovi cesni chiesa e rabbio e invece non è così non è esattamente così e la percezione però che ti restituisce qual è la juve in maniera proprio serena con la pipa in bocca si libera dei pesi morti ecco finalmente lo spazio per i grandissimi colpi che riporteranno la grandeur poi attenzione perché questa questa narrazione questo tipo di formazione chiaramente è a doppio taglio perché da una parte ti esalta superficialmente dall'altra qualora poi non dovessero arrivare quei risultati preconizzati come spesso poi capita ultimamente e beh c'hai il boomerang e allora magari gli interisti che stavano lì per appendersi col cappio sono tutti esaltati perché non se lo aspettavano perché tu mi racconti che stai in difficoltà e che stai con l'acqua alla gola in apnea eccetera eccetera invece poi guarda che che tipo di squadra invece dall'altra che tu racconti va sempre tutto bene anzi grandissime operazioni Ronaldo si ripaga con le magliette e poi arrivano le mazzate e va in depressione quindi non sto dicendo meglio o peggio sto dicendo questo è questo è chi lo fa sapete voi che lo fa lo so io si vede perché lo fa questo lo sanno loro un'ideina ce l'avrei un saluto